Ritorniamo un attimo al colonnello, l'evoluzione, lei l'ha già accennato prima, di un esercito che oggi è un esercito di professionisti, ma è un esercito, quell'italiano, anche un po' in giro per il mondo, non stiamo parlando di Libano, ma ci sono altre missioni nel mondo, alcune più, alcune meno pericolose, ma chi ci porta a noi ad andare a rischiare la vita, in giro per il mondo? Questa è una domanda quasi filosofica, noi siamo una istituzione forte dello Stato, antica, che ha seguito lo Stato nella sua evoluzione e siamo fedeli alle istituzioni democratiche, di conseguenza quando il Paese chiede l'intervento di militari e decide di spendere i suoi figli in divisa in altri Paesi, noi partiamo, noi ci addestriamo, siamo pronti a operare in quelle terre, ma non ci domandiamo mai il perché partiamo. Partiamo in osseguo a un nostro antico senso del dovere e spirito di obbedienza. Questo è quello che si chiama il militare in generale, però molte volte il civile non la percepisce, perché però voi ci credete alla fine? Cioè non è solamente un ordine che arriva dal comando maggiore, voglio dire il militare, e lo faceva notare Antonella prima che non è militare, vive il momento che poi se da quello dell'alza bandiera magari al momento, non so quali saranno gli altri simbolici di una missione, vive con un pathos particolare. Ecco, cosa ha dentro di diverso dal civile il militare? Già quando si sceglie di abbracciare questa vita si fa una scelta ben precisa. L'uniforme, come diceva Antonella prima, che ci rende tutti quanti uguali, vuol dire che noi subordiniamo l'essere individui all'essere collettività, quindi noi ci configuriamo con il Paese, è questa la nostra forza. E diciamo che muoviamo i nostri passi fin da piccoli, sia i militari di truppa, sia i sotto ufficiali che gli ufficiali, negli istituti di formazione. E veniamo educati proprio all'ospito di servizio per la collettività. Noi siamo l'espressione del Paese, presuntuosamente poi essendo bersaglieri pensiamo anche di essere una delle espressioni migliori del Paese, proprio perché subordiniamo il nostro essere individui, i nostri interessi personali, che lì abbiamo anche noi come tutti, ci mancherebbe altro. Anche noi abbiamo i nostri sentimenti, le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri bisogni, le nostre famiglie. Ma siamo sempre disposti a sacrificarli proprio per servire al nostro antico ideale, quello di servire in armi la patria. Mi parli un attimo invece di cos'è oggi la caserma genettino in realtà. Qual è il lavoro che si svolge all'interno di questo che è un contenitore storico della città di Trapano? Lo so perché molto spesso ancora qualcuno, indietro con il tempo, ancora si riferisce anche nelle lettere ufficiali, negli inviti, ancora con il sessantesimo battaglione col di lana o caserma a Giannettino e via così. La caserma nella sua struttura è rimasta più o meno la stessa. E' chiaro che prima il compito era quello di addestrare militari di leva a fare quell'anno più o meno 15, poi 10 mesi di servizio militare, i cui obiettivi dell'esercito di leva erano ben chiari, ben precisi, quello di unire l'Italia, perché alla fine ci si muoveva dal nord al sud, dal centro in giro, proprio per cercare di creare uno spirito di identità nazionale. Poi via via questa esigenza è venuta meno, ma il volontario all'interno dell'academia si addestra proprio per poter svolgere quel tipo di operazioni a cui siamo stati chiamati a svolgere, peraltro egregiamente in quanto siamo partiti e siamo tornati tutti quanti insieme e in quel periodo di Libano ha continuato a vivere i sei mesi di pace. È vero, la pace non fa notizia e noi siamo contenti di questo. Oggi 500-600 persone vivono all'interno di questo contenitore e cosa fanno in realtà? Non hanno bisogno di addestramento perché sono professionisti già addestrati altrove. È come il medico che ha bisogno sempre di ulteriori stage di perfezionamento, qualora venga fuori una nuova tecnica di intervento chirurgico, o come il giornalista che partecia degli stage di formazione per nuove tecniche di comunicazione. Alla fine il livello di attestativo va mantenuto e come l'atleta che poi vuole fare una gara deve continuare ad allenarsi e va perfezionato in funzione dei nuovi impegni, dei nuovi possibili scenari di intervento, delle nuove armi, dei nuovi mezzi, dei nuovi equipaggiamenti. E quindi è un lavoro continuo, meticoloso attento, che grazie all'impegno di tutti noi riusciamo sempre a portare avanti. E il maggiore vanto, se così posso dire, è che noi lavoriamo sempre su un output operativo in potenza. Cioè noi siamo pronti in ogni momento. Speriamo di non essere utili. Però ci prepariamo adesso. Qualora servisse, siamo pronti. La ti porto un attimo in Libano. Chi comanda oggi in Libano? Chi comanda? In Libano in questo momento nelle Nazioni Unite è tornato a esserci un comandante italiano. Il generale di divisione Serra, Paolo Serra, è lì attualmente. Il comando ha preso il posto del generale Asar. Comando generale. Le Nazioni Unite sono unifili che poi in quel contesto ha anche un doppio cappello perché è rappresentante speciale per le Nazioni Unite e comandante del contingente militare. Quindi è in carico molto delicato. In più i contingenti sono rimasti gli stessi, la composizione è la più larga possibile. Si superano le 50 nazioni, ma credo anche molto di più, vado a memoria. Nella nostra area di operazioni noi cooperavamo con i coreani, cooperavamo con i francesi, con i ganesi, con i malesi. C'erano addirittura contingenti del Brunei. Quindi era una composizione, c'erano irlandesi. Quindi una composizione che fa capire l'importanza che il mondo intero, quindi non solo l'Italia, ma il mondo intero attribuisce a quel teatro. Ritorniamo un po' alle motivazioni invece che spingono alla carriera militare. Caporale, fino a qualche decina di anni fa era impensabile che una donna varcasse la soglia di una caserma da militare. Oggi perché? Si sceglie la carriera militare, vale per la donna e per l'uomo. Ci sono altre, non molte opportunità di lavoro, cos'è? L'amore, la tradizione di famiglia, cose che vi spingono. Allora, io penso che scegliere questa vita non si fa solo, cioè non si fa per solito. Non è per la ricerca di un lavoro solamente. Non è per un lavoro, almeno parlo dal punto di vista personale. Io quando scelsi di fare, comunque di arruolarmi, ero affascinata anche da mio fratello che ha intrapreso la stessa carriera. Ma soprattutto perché credo in quei valori come la dignità, come l'ordine, la disciplina, che comunque solo in questa vita si possono riscontrare. Non me ne sono mai pentita perché per me non è un lavoro, ripeto, è una passione. L'amore per la patria, cioè essere utili, sapere di essere utili per qualcuno fuori, è una cosa, secondo me, bellissima. E poi ho imparato ad apprezzare le piccole cose quotidiane che prima non avrei mai pensato di farlo. Ad esempio una normale giornata di mare, cioè io l'ho desiderata talmente tanto perché comunque la nostalgia di casa si sente dopo sei mesi. Lei vive all'interno della caserma o presta solo lì le sue ore di lavoro? No, presta solo le mie ore di lavoro. Ecco, come all'interno invece della caserma è il lavoro di un militare? Ecco, i bersaglieri sono noti soprattutto per la loro attività fisica, voglio dire, che insomma se ne fa a Iosa. Ci spieghi un po' qual è la vita? Ecco, lei arriva al mattino a Timbra. Esatto. L'impiegato del comune si siede dentro di Roma Poltrona, lei comincia a fare i giri di campo, no? No, ovviamente sì, c'è molta educazione fisica, si studia, si ripassano le armi, quello che prevede che debba conoscere un soldato. Appunto perché dobbiamo sempre essere preparati. Ecco, e questo alla fine porta ad uno standard quotidiano, diventa noia? No, assolutamente no. Proprio perché io amo questo lavoro, quindi non è mai una noia, assolutamente. Colonnello, come si fa invece a tenere alto sempre l'interesse, così come il capore al maggiore ci ha fatto capire, cioè tenere alto questo stimolo, voglio dire, non è facile. Non è facile assolutamente. Dietro la scrivania di un ufficio ci rendiamo conto della noia. Non è facile assolutamente, però ripeto, il primo capore al maggiore burruto ha evidenziato bene che c'è di sottofondo la passione. Io da sempre, da quando sono entrato, quindi da quando avevo 18 anni, adesso ne ho un po' di più, non ho mai rimpianto un giorno in cui sono entrato in caserma, mi sono sempre divertito. Il mio obiettivo è sempre stato quello di lavorare divertendomi. Solo chi ha passione riesce a trasmettere questo, solo chi ha passione riesce a recepirlo. E quindi ogni momento, dall'alza bandiera, che per noi è un momento solenne, che non facciamo solo in fuoriare, ma facciamo ogni mattina in caserma, alle squilli della tromba della fanfara che ci mettono... Vi sento da gas a cia. ...ci mettono verve e allegria. E anche il contatto umano, il fatto che noi comandanti, in primo luogo, abbiamo la responsabilità di formare militari che un domani, anche quando noi non ci saremo più, avremo lasciato il comando, saranno impiegati all'estero, dove veramente si rischia la vita se non si è preparati a fare il proprio lavoro, questo senso del dovere, della responsabilità ci spinge a essere tenaci, non volevo usare la parola duro, ma tenaci nell'addestramento continuo. Ripeto, un atleta che vuole correre la maratona si deve allenare per tutto l'anno per correrla. Il militare che vuole fare il militare, vuole fare il soldato e portare quel pezzo d'Italia d'eccellenza che Antonella prima ha descritto, si deve impegnare ogni giorno. Il nostro sforzo è quello di tenerlo sempre bene a mente, perché ci sono momenti di sconforto, ci sono momenti di debolezza e proprio in quei momenti noi ricerchiamo dentro noi quelle antiche motivazioni che ci hanno scritto da baciare questa vita. Tant'altro noi l'Italia la portiamo sempre addosso, abbiamo lo scudetto dell'Italia, abbiamo le nostre fiamme cremesi che ci ricordano anche quanti vestendo questa uniforme e queste fiamme sono morti tanto tempo fa, proprio perché noi vivessimo in questa Italia di oggi e quindi proprio anche per onorare il loro sforzo noi ci impegniamo ogni giorno. Non ci potremmo mai annoiare. Antonella, che ti ci ha portato? Ti potevi fare una settimana di vacanza al mare. Ma ci volevo restare poi dopo. Sì, ci volevo restare. In realtà, guarda vuoli, sono cose che capitano per caso. Così come per caso, mica poi io sono molto fatalista, quindi collego una cosa all'altra. Io nel 2005 ho inizi un premio alla Camera dei Deputati dedicato all'Ilaria Alpi e Maria Grazia Cuturi, giornalista caduta in territorio di guerra, e un premio sulla libertà di informazione, che è stato un fortissimo segno perché comunque ha risollevato in me una curiosità giornalistica che in quel momento non avevo. A distanza di tempo, io da Roma mi trasferisco qua a Marsala, insomma a lavoro nel nostro territorio, abbandono un po' quelle prospettive che ti potrebbe dare una grande città. Ironia del caso, io in quanto ho detto stampa dell'UNESCO di Marsala, che insieme al Maggiore Patti ha promosso questa iniziativa di raccolta farmaci e di materiale didattico in vista di questa missione, proprio per donarla alla popolazione del Libano del Sud, che è insomma bisognosa proprio di assistenza sanitaria primaria, ci siamo ritrovati in occasione di questa consegna e lì mi si è aperta questa porta. La possibilità in quanto giornalista di poter partecipare per un breve periodo a questa missione, andare a vedere con i miei occhi sia come veniva articolato... Quindi è stata proprio ospite, voglio dire, del contingente italiano, quindi vivevi con loro, non eri in albergo... Al seguito, letteralmente, colonnello, interpreto io il termine meded, previsto, sì, al seguito dell'esercito, quindi loro in realtà non mi hanno lasciata un attimo, perché ero veramente sotto sorveglianza speciale e questo devo dire che mi ha messo molto in difficoltà, perché insomma una giornalista che fondamentalmente è molto libera anche nell'esercizio della propria professione, oltre che nella sua vita chiaramente, viene calata all'interno di un contesto dove prevalgono regole, prevale la disciplina, sono tutti l'indivisa, non sciolgono i capelli chiaramente perché devono rispettare queste ragazze, insomma, dico un annullamento in senso positivo però della loro identità in vista di quello che è questa missione. Per me è stato un impatto fortissimo, però è vero, come dice Di Sara, mi stavo inventando il mal di pancia perché non volevo partire, quindi dico ora mi faccio ricoverare... Tu mi raccontavi prima, a microfoni spenti, che una delle cose che ti ha colpito, per esempio, sono stati i colori nelle camere delle ragazze, no? Sì, è stata una cosa divertentissima perché poi io andavo, non ti preoccupare... Cioè perché noi li vediamo tutte uguali, voglio dire, capelli legati, civisa... Sì, perché realmente queste ragazze, sempre in divisa, tutt'al più si concedevano una tuta, però dove si dovevano sbizzarrire? Chiaramente all'interno della camerata per quello che potevano. Siccome io non contenta di delle informazioni che mi davano relativa all'attività prettamente militare, volevo andare a capire invece proprio anche la sfera un po' più intima di queste persone. Allora, una sera sono andata nelle camere delle ragazze, ho aperto questa stanza, ho trovato di tutto chiaramente per arricchire e per dare un po' di colore, insomma, a questa loro missione. Nostalgia di casa. Esatto, nostalgia di casa, dalle lenzuola colorate, insomma, tante altre cose che attaccavano magari nelle pareti, giustamente, per avere anche un angolo da sentire un po' più proprio, insomma, sei mesi sono sicuramente tanti. Caporale Borrutto, come passano sei mesi? Primo caporale maggiore. Primo caporale maggiore. Scusa, non così, è lessico dei militari. Sì. E come passano sei mesi in Libano? Ecco, cos'è che... L'ho detto anche prima. Che le è mancato di più, ecco, le cose... L'ho detto prima, ho apprezzato le cose più banali, io ho sentito molto la nostalgia di casa, però avendo colleghi che poi diventano amici, e comunque tu nel momento del bisogno ti ritrovi sempre, cioè questa è l'unica forza che ti dà, perché comunque si è una famiglia, cioè tutti siamo sulla stessa bar. Questo aiuta inevitabilmente dal punto di vista professionale a crescere, no? Perché sicuramente ci si abitua a quelle che magari sono le cose più banali del quotidiano che ti mancano. Ci sono state il mare di casa, ma voglio dire anche il pigiama di casa. Il pigiama. E ci apprezzano tantissimo. Cioè passare con il mezzo sulla strada e incontrare anche dei bambini che ti salutano e ti chiamano italiano, italiano, c'è già... C'è tanto. Regalare un sorriso a chi ne ha bisogno è una cosa veramente importante. Ecco, ma questa gente, di cose che oltre dei sorrisi ha bisogno? Ecco, nel quotidiano. Sicuramente come... cioè noi abbiamo tutto, io ho visto questo, cioè noi non possiamo lamentarci di nulla, c'è gente che sta peggio di noi. Sicuramente vorrebbe avere una sicurezza, un paese più sicuro, più libero. Ecco, e per ottenere questo quanto noi possiamo essere di aiuto a queste popolazioni? Già con la nostra presenza è tanto, loro hanno bisogno di noi, cioè loro la nostra presenza l'accettano totalmente. Ecco, ci sono momenti in cui invece c'è un po' di scollamento, ma chi me l'ha fatto fare? Non so, sarà successo una volta in cui... Va bene, ma perché si è presi dalla rabbia, ma non si pensa realmente. Però appunto, in realtà non... Cioè io lo rifarei, mille volte. Cornelio, siamo in chiusura. Io vorrei che lei adesso invece lasciamo stare il Libano, le missioni, le guerre e quant'altro. Invece, fai capire ai nostri spettatori perché è importante ancora oggi mantenere in vita le forze armate e soprattutto, ecco, perché è importante credere in queste istituzioni. E vi farei un'altra volta una domanda che non sta a me, io, come se facessi... Eh, lei l'ha fatta questa scelta. Io quindi posso dire il motivo per cui ho scelto di fare questa professione.